Degenera una lite in pieno centro a San Severino, spunta anche un coltello, due persone al pronto soccorso, ferito anche un ispettore della polizia locale. 6 interventi di difesa della costa da Pesaro a San Benedetto del Tronto, la regione stanzia 25 milioni, altri 9 arrivano da rete ferroviaria italiana. La storia bella di un progetto di inclusione grazie ai volontari che mette in bicicletta normodotati e disabili. A due mesi dal suo insediamento il nuovo comandante dei carabinieri di Ascoli Piceno, Domenico Barone, fa il punto sulla città e sull'attività dell'arma. Buonasera e ben trovati con il nostro secondo appuntamento con l'informazione all news nel nuovo orario delle 18 e 50. Lo avete sentito dai titoli, c'è stata una violenta lite a San Severino Marche, è spuntato anche un coltello, due le persone rimaste ferite, ci dice tutto nel nostro primo servizio. Andrea Verdolini. Un duello rusticano rigorosamente a colpi di coltello, nel pieno centro di quella che generalmente si considera una tranquilla cittadina dell'entroterra. A San Severino Marche due marocchini di 30 e 39 anni, sembra per futili motivi, forse per uno scherzo non gradito, prima se le sono date di santa ragione, poi sono spuntati i coltelli. Ed il salotto di Piazza del Popolo ieri sera è sembrato un far west, conferite per entrambi 30 giorni di prognosi dopo le cure prestate all'ospedale di Camerino, ed un ispettore della polizia locale colpito ad una mano e comunque già oggi al lavoro. Gli agenti hanno evitato il peggio, ha dichiarato la sindaca settempedana Rosa Piermattei, sia ai due protagonisti che ad altre persone che hanno assistito, sprezzanti del pericolo, e consegnando poi i litiganti ai carabinieri. Un'azione che esula dalla quotidianità e che dà loro grande merito. Le regole della sana convivenza civile sembrano frasi utopistiche per chi gironzola con le lame, pronte ad essere utilizzate al primo diverbio. Cambiamo adesso argomento ancora a maltempo sulle Marche, soprattutto ad Ancona e provincia, a Senegale in particolare, si sono registrati i rallentamenti della circolazione per la pioggia, qualche criticità lungo le strade cittadine. Questa mattina code anche in autostrada sulla 14, sempre dovute alla perturbazione. Nel centro storico di Senegale rimane ancora chiuso il sottopasso di Via Dogana Vecchia, a fianco del fiume Misa, per la presenza di acqua e fango sulla carreggiata, mentre il litorale è sferzato da forti raffiche di vento che agitano il mare Adriatico. E a proposito di costa arriva una buona notizia dalla regione, lo stanziamento con RFI di 34,425 milioni di euro per sei interventi di difesa da nord a sud delle Marche. Luca Falcetta. Dopo tanta attesa, finalmente arriva una buona notizia per i gestori degli stabilimenti balneari delle Marche. L'assessore regionale all'ambiente Stefano Aguzzi ha annunciato l'arrivo di ben 34 milioni di euro, in parte cofinanziati da Rete Ferroviaria Italiana, che serviranno per realizzare sei interventi di difesa della costa. Il comune di Pesaro riceverà un contributo di 250 mila euro per il completamento della scogliera in località Castel di Mezzo. Quello di Porto Recanati, 9 milioni di euro, che serviranno per il primo stralcio delle scogliere emerse a Scossici, località che ha vissuto una tribolata stagione estiva a causa della spiaggia ridotta dalle mareggiate. Potenza Picena e Civita Nova Marche beneficeranno invece di 11 milioni per salvagordare la linea ferroviaria. Al comune di Pedaso verranno finanziati due interventi. Infine, il comune di San Benedetto del Tronto otterrà 6,5 milioni di euro per quelle sommerse lungo il litorale Sentina. Anche se manca ancora molto alla prossima stagione estiva, non c'è più tempo da perdere. Le mareggiate invernali, infatti, sono particolarmente aggressive. Si rischia quindi di vedere scomparire definitivamente la poca spiaggia rimasta. Aguzzi ha però assicurato che i comuni, in qualità di soggetti e trattori, potranno intervenire al più presto. Facciamo una serie di interventi su tutti i punti, diciamo così, di maggior sofferenza della costa marchigiana. Non abbiamo la presunzione ovviamente che questo risolveranno tutti i problemi, però sinceramente metteranno in sicurezza molte parti dei nostri territori che storicamente da molti anni in questa parte soffrono ogni volta che c'è una mareggiata. Sono soddisfatto, sono fondi europei che avevamo già programmato da tempo in questo senso. Non era scontato l'ausilio di ferrovie per, diciamo così, compensare anche là dove da sola regione non sarebbe potuto arrivare. Questo osilio c'è stato, li voglio ringraziare, ma voglio ringraziare anche tutti i miei uffici che hanno operato in questo senso e fatti già anche tutti gli incontri e gli accordi con i comuni che poi dovranno essere fruitori di questi fondi. Di conseguenza una bella notizia ovviamente. Attenzione alle truffe, Feder Consumatori Marche organizza in collaborazione con Spicci GL, Leggancona e Auser Colle Marino un incontro con i consumatori venerdì 24 novembre alle ore 16 presso il circolo Auser di Colle Marino. Al centro dell'incontro tanti temi come le truffe telefoniche, i consigli per non cadere nelle trappole, su luce e gas, il diritto di recesso. Per molti andare in bici per fare una passeggiata o raggiungere il centro è una cosa normale e naturale, ma per alcuni rappresenta un sogno, eppure alle volte i sogni si avverano grazie al cuore grande dei volontari. Sentite questa bella iniziativa partita a Fano di cui ci parla il nostro Lino Balestra. Prendi il mezzo di trasporto più diffuso al mondo, prendi dei volontari armati di pazienza e mestiere, metti insieme ad associazioni e ad un'amministrazione comunale attenta, sensibile e viene fuori tutti in bici. Sì, ma proprio tutti normodotati e diversamente abili. Fano e il circuito ciclistico Marconi sono lo scenario, armati dalla bici e associazioni sportive a due ruote, i propulsori, l'amore di famiglia e genitori, la benzina da metterci dentro. Il progetto è partito dall'esigenza di alcune famiglie di poter trovare uno spazio, che io dico sempre in questo mondo per questi ragazzi. Nasce dallo spirito di solidarietà tra persone e stiamo riuscendo, diciamo, dal lavoro. È nato un anno fa, operativamente siamo partiti da due anni, da due mesi, scusate, e niente, stiamo facendo sentire il vento in faccia a questi ragazzi, li stiamo facendo provare emozioni, li stiamo includendo nello sport, li stiamo facendo sentire vivi e soprattutto gli diamo dignità a loro e alle loro famiglie. Quanti ragazzi sono adesso coinvolti? Siamo partiti da pochi, adesso siamo 11 ragazzi, abbiamo altri 3-4 ragazzi che sono venuti a vedere e che sicuramente inizieranno col tandem per poi passare alla loro bicicletta. Più che una opportunità, tutti in bici, dà la gioia e la vita a chi purtroppo vive situazioni penalizzanti. Noi dobbiamo sfatare questa mancanza di ovvietà, perché l'ovvio effettivamente sembra non riservato, mentre invece purtroppo per la persona con disabilità anche semplici cose sembrano che non gli possano appartenere. Ma questo è un nostro limite e noi dobbiamo andare oltre questo limite, perché ogni persona ti dà qualche cosa. Una società che sa includere e che trova gli strumenti giusti per farlo è una società che guarda al futuro e che considera ogni individuo protagonista della vita comune. Lo sport in questa città sta crescendo in termini di inclusione, molte società si sono rese disponibili per questo progetto, un progetto che poi si traduce nella semplicità di far andare tanti ragazzi con disabilità in bicicletta, nella piena autonomia, nella fiducia di se stessi, proprio nello scoprirsi anche e nell'abilitare le proprie famiglie ad avere anche questo senso un po' di libertà che spesso purtroppo quando si hanno queste disabilità in casa non si ha. Più relazione con il pubblico, più migliore il servizio sanitario. La Giunta regionale, nell'ambito della legge 19, che ha azzerato l'Asur introducendo 5 aziende sanitarie e territoriali e con il piano sociosanitario, ha previsto la partecipazione come concetto essenziale strategico per migliorare i servizi. La novità più rilevante riguarda gli orari con URP e punti informativi che devono essere aperti dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 e 30 alle 14. L'orario deve essere assicurato anche dal servizio telefonico. Restando in tema sanitario parliamo adesso della campagna vaccinale anti-covid e anti-influenzale partita a rilento anche nelle Marche. Il servizio di Andrea Verdolini. Il covid non desta più da tempo quell'allarme che ha contraddistinto per tre anni la quotidianità di ognuno. Il 5 maggio scorso, lo ricordiamo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato la fine dell'emergenza sanitaria iniziata l'11 marzo del 2020. Eppure il coronavirus circola eccome e non va preso sotto gamba nell'ultimo settimanale report della nostra regione la cifra è eloquente, 754 nuovi contagiati con un tasso di incidenza di 36,64 su 100.000 abitanti lontano anni luce dalle tristi quote del 2020-21 ma nemmeno così trascurabile. Ecco quindi che rilanciare il tema della vaccinazione, specie in questo periodo e per le fasce più deboli, non appare fuori luogo. La vaccinazione, come sappiamo, è un tema delicato anche dal punto di vista soggettivo perché in un paese democratico, come sappiamo, ci sono tesi che sono per la vaccinazione e anche tesi contro la vaccinazione per le sue conseguenze. Noi, per quanto mi riguarda il sistema sanitario, chiediamo alle persone fragili di vaccinarsi. Sappiamo che il Covid ha avuto una devastante, soprattutto, capacità di intervenire anche infaustamente sulle persone fragili e quindi penso e ritengo che sia consigliabile come il sistema sanitario consiglia a livello nazionale per tutte le persone fragili, per le persone oltre i 65 anni e perché anche delle comorbidità. Tuttavia è chiaro che in questa fase esistono anche delle terapie che curano il Covid, che sono i trattamenti con antivirali e anticorpi monoclonali e questo garantisce a tutti appunto la possibilità di curarsi anche in assenza di vaccinazione. Io personalmente ritengo che la vaccinazione sia la via e la strada maestra per combattere anche questa forma di Covid del 2023. Dunque, l'abbiamo sentito, sono in crescita i casi Covid, sia tra la popolazione adulta che pediatrica. Stanno iniziando a circolare i primi casi di influenza stagionale, per lo più ancora negli ambulatori dei medici di famiglia, ma a fare strage nei luoghi di lavoro e anche nelle scuole sono i virus gastrointestinali. Al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette, questa mattina, sono stati 7 pazienti positivi arrivati solo nelle prime ore, ha detto la responsabile Susanna Contucci. Giornata di festa questa mattina a Sforzacosta di Macerata per l'inaugurazione di un nuovo polo scolastico firmato Fondazione Andrea Bocelli. Vediamo. Senza la comunità vicino non sarebbe stato possibile realizzare tutto questo, per cui un ringraziamento speciale va a tutte le persone che fino a ieri sera hanno lavorato per la realizzazione di questo progetto. Quando c'è la voglia di fare bene, questo arriva. Sono le parole di Veronica Berti, vicepresidente dell'Andrea Bocelli Foundation, in occasione dell'inaugurazione della nuova scuola dell'infanzia 06 di Sforzacosta, tenutasi questa mattina. Una struttura moderna che guarda le risorse energetiche e alla tutela dell'ambiente. Una scuola realizzata in 150 giorni, fortemente voluta e commissionata dalla fondazione. I bambini, i ragazzi non sono più dei vasi da riempire di contenuti. In un mondo che cambia costantemente abbiamo bisogno di rafforzare le radici, abbiamo bisogno di credere in noi stessi, nelle nostre capacità, per poi far uscire fuori queste radici e processare tutti questi cambiamenti veloci che ci vengono dati da questo mondo che in qualche modo a volte ci può anche tritare nel suo cambiare, 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 ma se siamo forti, se crediamo in quello che siamo, nella nostra identità anche di comunità, ce la facciamo e riusciremo a portare valori e cambiamenti positivi alle nostre comunità. Tra i partecipanti all'evento inaugurale il sindaco Sandro Parcaroli con la sua giunta comunale e il commissario straordinario alla ricostruzione post-sisma Guido Castelli. È una scuola meravigliosa in cui si combinano attitudini ingegneristiche e architettoniche ma anche alcune idee pedagogiche in cui riaffiora l'esempio di Maria Montessori. Qui noi ci prefiggiamo non solo di creare un polo scolastico 06 importante ma di fare in modo che dei cittadini del futuro, maschi e femmine, possano vivere all'insegnamento del rispetto della relazione fra la scuola e fra i bambini ma anche fra i bambini e le famiglie. Insomma una proposta didattica che noi vorremmo, partendo da Sforza Costa, proporre anche al resto delle scuole dell'Appennino Centrale. La mattinata è proseguita al Teatro Don Bosco di Macerata con istituzioni e ospiti che hanno illustrato il progetto. La scuola, che accoglierà Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia, è il primo dei due lotti dell'ABF Hub Educativo 011, un progetto innovativo che prevederà anche la creazione di laboratori di musica, arte e tecnologia aperti sia agli studenti che alla comunità. Ancora la cronaca, nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo hanno concluso una serie di operazioni volte a riprimere episodi di traffico e uso di stupefacenti nel territorio provinciale. Operazioni sono state svolte anche a Porto San Giorgio dove due cittadini albanesi sono finiti nei guai per possesso di droga. Tutela degli anziani, delle donne che subiscono violenza anche domestica, dei bambini e attenzione ai reati predatori. Queste le linee guida che caratterizzano il mandato del colonnello Domenico Barone insediato a metà settembre a Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno, proveniente dal Comando Generale dei Carabinieri di Roma. Lo ha intervistato per noi Mario Larocca. Presto per fare bilanci dopo due mesi di insediamento qui nella caserma di Ascoli, però le prime impressioni, quale sono comandante? Allora io voglio trasmettere la mia esperienza personale di questi due mesi, più che fare un bilancio dell'attività. Si tratta di una provincia che è bellissima e non ha particolari problematiche sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma mi sta dando veramente tanto dal punto di vista umano. Ecco mi trovo in una realtà che ha permesso a me e la mia famiglia di adattarci in modo immediato e soprattutto riuscire a conoscere e a scoprire le bellezze di questo territorio. Per cui vivo con un grande entusiasmo questa esperienza, un entusiasmo che è felicità, è unito la felicità di essere passato da una realtà grande come può essere quella di Roma a una realtà di provincia che mi sta dando grandissime soddisfazioni. Ha finalmente avuto anche la fortuna di provare le vere olive alla scolana immagino. Ah è una cosa che non aveva, diciamo è un prodotto che noi purtroppo non conosciamo nella sua versione originale, ma soprattutto ha avuto l'opportunità di mangiare le olive che si fanno a casa, è la cosa più importante, dei sapori straordinari ecco che solo chi vive qui ha il privilegio di provare. Ha scoperto anche una città ricca di eventi. Ma io non ho mai conosciuto una realtà culturale così ricca di eventi come Ascoli Piceno. C'è una volontà di trasmettere le bellezze del territorio, di organizzare, di tenere impegnata la gente e secondo me è fondamentale. Si crea un indotto positivo e si crea soprattutto, si dà la possibilità alle persone di essere impegnate e di scoprire con questi eventi le bellezze del territorio. È arrivata come una sorpresa per i proprietari della villa e per tutti gli osimani, la facciata della meravigliosa villa Simonetti a Osimo è stata ridisegnata dal Bambitelli a darne l'annuncio la proprietà Alessandra Ercolani. Una scoperta che sarebbe emersa rileggendo gli archivi storici della famiglia e i carteggi. A Fano è già tempo di Natale. È presentato il cartellone delle iniziative che prenderanno il viaggio a questo sabato, poi grande attesa per domenica 26 con l'accensione dell'albero in piazza 20 settembre. Il servizio. Il Natale di Fano si chiama Natale più ma quest'anno è più più. Più luci, più mercatini, più luoghi coinvolti, più presepi sparsi nella città. Insomma molto di più dello scorso anno. I motivi sono legati al fatto che la crisi energetica dello scorso anno, il caro vita in generale, avevano un po' condizionato le scelte dell'amministrazione. Ma quest'anno si vuole recuperare e rilanciare con una novità assoluta per il Natale fanese. Negli ultimi 7-8 anni la nostra provincia ha avuto l'intelligenza di diventare molto attrattiva perché ci sono una serie di eventi nei borghi e nelle città che veramente fan sì che diversi da ogni parte d'Italia arrivano nella nostra città. Ecco Fano fa la sua parte e la fa in modo importante, quindi un'illuminazione diffusa in tutta la città, una serie di eventi partendo dal Pincio dove ci saranno questi magici mercatini con le casette che hanno preso spazio in un luogo bellissimo della città realizzati grazie alla Proloco di Fano e le tante associazioni. Ci saranno eventi nei quartieri, insomma veramente ci sarà una strutturazione del Natale con un'illuminazione diffusa bellissima, un evento su tutti che sarà la novità del Natale 2023-2024 San Francesco, un progetto fatto con il Light Design insieme a Stark di Cagli e il racconto della San Francesco attraverso una serie di proiezioni, di luci, di suoni e quindi racconteremo questo magico luogo, sarà possibile entrarci tutti i weekend dalle 5.30 alle 7.30 e ci sarà un quarto d'ora di questo spegnimento delle luci e poi l'accensione di uno spettacolo che racconterà questo luogo magico ormai fotografato da tutti. Restano i capisaldi comunque come la pista di ghiaccio, il villaggio di Natale e tante altre attività sotto l'albero. Motore di tutto, come sempre, è la Proloco che con i suoi volontari è praticamente il braccio armato del Comune. Anche quest'anno riusciremo a fare il Natale e ad organizzarlo come speriamo anche meglio dell'anno scorso e la nostra macchina operativa è incominciata a partire come di dovere, adesso vediamo un attimino dove riusciremo ad arrivare. Come tutti gli anni avevamo iniziato la ricerca dell'albero e una famiglia fanese, quindi siamo orgogliosi anche di questo. aveva un albero che anche lì iniziava a dare problemi all'abitazione, un albero bellissimo e la famiglia Mariotti è proprio vicinissimo perché è a Rosciano di Fano e quest'albero arriverà in piazza e diventerà la meraviglia dell'albero di Fano. Bene per noi era questo l'ultimo servizio, rivediamo insieme gli argomenti principali di questa edizione nei titoli. Degenera una lite in pieno centro a San Severino, spunta anche un coltello, due persone al pronto soccorso, ferito anche un ispettore della polizia locale. Sei interventi di difesa della costa da Pesaro a San Benedetto del Tronto, la regione stanzia 25 milioni, altri nove arrivano da rete ferroviaria italiana. La storia bella di un progetto di inclusione grazie ai volontari che mette in bicicletta normodotati e disabili. A due mesi dal suo insediamento il nuovo comandante dei carabinieri di Ascoli Piceno, Domenico Barone, fa il punto sulla città e sull'attività dell'arma. Grazie per essere stati con noi, vi lascio ai programmi della rete ricordandovi alle 20 e 50 canale salute e poi l'appuntamento serale con fatti e commenti dalle 23. Ora le previsioni del tempo e poi la sigla e restate con noi perché c'è Allsport a cura della redazione sportiva. Grazie a tutti e buona serata. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che vedrà attivo sul Mediterraneo centrale questo centro di bassa pressione. In lento movimento verso sud porterà mal tempo soprattutto proprio nelle nostre regioni meridionali. Lo vediamo anche dalla previsione della nuvolosità con le nubi che piano piano si muovono proprio verso il sud Italia mentre al nord e sul medio alto Tireno cominciano già a tornare delle belle schierite. Precipitazioni che saranno ancora insistenti sulle regioni del medio adriatico e poi come vi dicevo raggiungono gran parte del sud e non si esclude anche qualche temporale quindi fenomeni localmente piuttosto intensi. Quindi in definitiva ci attende un mercoledì ancora molto variabile sul medio adriatico e soprattutto al sud nuvole, acquazzoni, forse qualche temporale come vi dicevo. Attenzione anche al vento che soffrirà piuttosto sostenuto e di conseguenza in queste zone anche temperature in leggera diminuzione. Meglio al nord e sul medio alto Tireno dove tornano ampie schierite ma con temperature bassine. Inizio giornata per avere però tutti i dettagli sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.